Per la casa mia ideale vorrei abito vicino a Mare perché mi piace il Mare. Non mi piace vivere nella città perché è troppo luminosa. Vorrei una casa con tre piani e deve essere luminosa, moderna e ampia. Deve avere un giardino con tanti pianti e deve esserci un garage per le mie moto e auto. E deve avere una grande cucina con un forno grande. Così posso cuocere molti dolci. Deve avere almeno due panni. E per le camere deve avere almeno tre camere da letto con paesaggi del mare. Per la mia camera ideale deve avere un letto comodo, Una scrivania, uno stereo, un campina armadio, un divano, una libreria pienitilibri. Un televisore, sì.